Sani, sani cari veneti, adesso mi dovresti cominciare il nostro Lenguacast, il tuo podcast in Lengua Veneta. Da ora l'avventura dell'episodio si sbloccherà fuori in modo vero, vuol dire per tutti gli iscritti al canale YouTube Lenguamare e dopo se temo a farlo, in modo privato fa il nostro solito per quei che ha fatto il monamento mensile al podcast. E chiaramente vi raccomando da mettervi al mio piace e solo il video e anche ad iscriversi al canale Lenguamare, la Sabia Casa dei Veneti, Intel Brasile. Per chi che vuole buonare mensile al podcast, basta scansionare il QR Code che si tratta solo il vero qua e sarei indirizzati a iscriversi e avere le porte averti a tutto il materiale del podcast per intere. Questo podcast viene fuori con tre episodi di settimana, lunedì, mercoledì e vendere, fuori l'euro contenuto, audio e video, che è il testo dell'argomento dell'episodio in Veneto e anche la traduzione in portoghese per l'edera. E su questo episodio qua, che si deve ascoltare anche adesso, che si deve guardarlo, ne parleremo del dose obelerio e tutti gli intravenimenti di Sbrocai in quel periodo là. E il dose obelerio, anche conoscito, può fare il senza testa e dopo guarderemo il motivo a ragione. Grazie a tutti.